il primo carico della giornata Gerardo secondo veramente il primo che era la roba sporca secondo io sono il manutentore dello stadio arechi e del centro sportivo nonché da qualche settimana anche qua a rivisogli ho avuto il piacere di fare conoscenze nuove ho un gruppo di lavoro meraviglioso anche qua cerchiamo di ottimizzare i campi per mettere in condizioni la squadra di avere sempre i campi in condizioni perfette 14 8 11 diciamo i numeri a prima mattina per perché perché ogni giocatore c'è un numero fino a qua ci siamo stiamo numerando i sali ad ogni giocatore associato numerò ma questi sono personalizzati ciao rosario buongiorno benvenuti stiamo preparando il caldo però ci convenizio si impegnano tutti ottimi ottimi sempre meglio come meglio danni in palestra in campo il lavoro perché il lavoro maggiore si fa in campo ovvio però la palestra aiuta sicuramente poi a avere una miglior performance in campo stiamo preparando per i ragazzi il recovery bevanda di riso per un buon recupero una quantità di zuccheri latte origine vegetale è una merenda che cos'è? frutta antiossidanti vitamine minerali per il recupero questa è l'integrazione che abbiamo preparato prima tutta personalizzata per i ragazzi tutta fresca che stanno per andare a fare un lavoro di forza tendono prima di andare in palestra comunque a passare e prendere qualcosa adesso raffreddiamo l'acqua dopo le indicazioni dello staff tecnico consigliano di fare le vasche ogni tre allenamenti perché fanno un carico importante e quindi si raffreddano per prevenire anche problematiche le tendine sono fondamentali il secondo la domenica quando entra in porta questo conta la partita